Sì, sì, l'abbiamo filmato, ecco un signore nella barca, da soli, sì, sì, oh, stanno vedete com'è bello, sono tutti i fioriti, eh? Chi può prendere uno? E' vietato, non si può perché è vietato, perché questa è la velezza, vedete quante braccia, ci avviciniamo al lago, ecco siamo arrivati al lago. Sì, sì, ma che ti frega sei quello lo stesso, che carino, sì, questo è il lago, come è che si chiama? Caranova? Taranova, si chiama lago Taranova, autista che dice tutto, guardate che bellezza, come è grande, e dove sono i pelicani? Adesso li cerchiamo i pelicani, ecco qua, se troviamo i pelicani, bello da morire. Chi c'è dentro l'acqua? Chi è in acqua? 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 Chi è in acqua Grazie.